Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di Crash, DirectX Air, Black Screen, Schermo Nero In questo caso su FIFA 25 stanno già avendo moltissimi problemi, ho fatto già altri tutorial su come risolvere questi problemi qua Quindi in questo caso faremo proprio una guida completa su tutti gli errori da risolvere su FIFA Soprattutto iniziando da come avviarlo correttamente senza avere problemi di Crash Quindi in questo caso innanzitutto non installare il gioco sull'hard disk, installalo su un SSD Quindi in questo caso se non sai se hai un hard disk o un SSD nel computer, se hai più dischi puoi semplicemente vedere su gestione e attività Tasso destro su Start, vai su prestazioni ed eccoli qua Io ho tre dischi quindi in questo caso ho un SSD, quindi un M2, un NVMe, un M2 proprio installato nella scheda madre Un SSD, un piccolo disco che si collega attraverso i SAT e poi l'hard disk e basta Io ovviamente se devo installare dei giochi pesanti come FIFA o altri giochi come God of War, Call of Duty li metto direttamente su questo SSD qua In questo caso ti consiglio di installarlo su un SSD se no avrai problemi ad avviarlo Aggiornare i driver della scheda grafica, in questo caso aggiornare sempre i driver è importante se no tu vai ad avviare FIFA con i driver obsoleti Quindi dei driver molto vecchi, in questo caso in descrizione c'è il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma Nvidia App L'applicazione che ti permette di scaricare, aggiornare e configurare la tua scheda grafica Nvidia Quindi vai su Nvidia, scarichi, installi il programma, vai su driver, drive game ready Questo driver game ready è per i giocatori e driver studio invece per chi vuole lavorare sul computer Quindi visto che sei un giocatore e devi giocare a FIFA, aggiorna così questa pagina per vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare Se no in questo caso puoi installare completamente un driver grafico per non avere sempre problemi su FIFA Vai e scrivi su Chrome, hold driver Nvidia Basta che scrivi hold driver Nvidia Ti porta qua sopra Scegli così il driver giusto per la tua scheda video, io vado a mettere 30 e 70 la mia scheda Faccio trova e scarico così i driver, come ho detto, driver game ready per i giocatori Ed eccolo qua, driver GeForce game ready 11 settembre Ed eccolo qua, lo segna anche qua sopra Scarichi e installi così il driver grafico Riavvia il sistema e poi prova ad avviare FIFA Per quelli che hanno AMD, vi posso consigliare il programma AMD software Adrenaline Edition Che è come Nvidia app dove tu puoi configurare e aggiornare i driver della tua scheda grafica AMD Io non posso farti vedere come funziona perché non posso installarlo sul mio computer Mi dice che non lo supporta, quindi non posso installarlo Invece qua, driver support Questo qui puoi installare completamente i driver per il tuo processore e per la tua scheda grafica Scegli così il tuo processore Scegli qua sopra Trova così la tua scheda grafica, in questo caso vado a prendere una Radeon RX Prendo così per esempio una 7000 serie Quindi prendo questa qua, mi sembra che questa è l'ultima uscita 7900 XTX Veramente un mostro di scheda video Clicco qua sopra ed eccolo qua Windows 11 64 bit edition E vai a scaricare questo aggiornamento qua E come puoi vedere ti scarica AMD software Adrenaline Edition Proprio come Nvidia vai a scaricare un driver per la tua scheda Download, scarichi e installi e riavvia il sistema Se non dovesse funzionare possiamo installare il nostro DirectX sul nostro computer Quindi in questo caso permette supporte DirectX 9, 10, 11 Aiuta anche a risolvere i problemi audio Quindi ti consiglio di scaricare questo DirectX Scarichi, installi Accettiamo il contratto Facciamo avanti Non installiamo questo motore di ricerca perché è solo un motore di ricerca Quindi non ci serve Vai avanti e installi così questo software Io non lo installo perché lo tengo già installato Ora passando così ai driver di Microsoft Visual C++ Visual Studio Ed eccoli qua Solo questi due devi scaricare e installare sul tuo sistema operativo O prendi 86 o 64 Questo è per i sistemi operativi a 64 bit e 32 bit Quindi puoi anche installarli tutti e due Una volta fatto devi riavviare il sistema Quindi tu installa tutti i driver e poi fai un solo riavvio Una volta fatto In questo caso Reinstallare Windows mantenendo i file Cosa significa? Tu puoi installare di nuovo Windows 11 o Windows 10 da capo Però mantieni così i tuoi file senza cancellare nulla Quindi tu reinstalli da capo Windows Quindi reinstalli anche gli ultimi aggiornamenti rilasciati su Windows Update Verifica disponibilità aggiornamenti Gli ultimi aggiornamenti che ho fatto 27 settembre Installazione riuscita Windows 11 versione 23h2 Quindi non vedo l'ora che esca la versione 24h2 a ottobre Per Windows 11 Quindi puoi scaricare e installare e mantenendo i file senza eliminare niente Poi Scegliere la scheda grafica per il gioco Come funziona? Vai a scrivere Grafica qua sopra Impostazioni grafica Sfoglia Vai a prendere così FIFA Nella sua cartella E vai a prendere FIFA FC 25.exe FIFA 25.exe programma Lo inserisci qua Opzioni Ed eccolo qua Tu metti Paristazioni elevate Per FIFA E fai salvo Basta Settare FIFA 25 Sul pannello di controllo Nvidia Cosa sarebbe? Sempre in descrizione c'è il pannello di controllo di Nvidia Tasto destro su Nvidia Se lo conosci lo troverai direttamente Qua sotto Qui possiamo Gestire un attimo Modifica della risoluzione Inserisci così la tua risoluzione Velocità di aggiornamento E fai applica Oppure vai direttamente su Regola dimensioni E posizione del desktop Tu inserisci Schermo intero La tua risoluzione del monitor La mia è full HD 1920x1080 E 165 Hz Dimensioni Abilita ridimensionamento Desktop E ti rispunta qua sopra E fai applica Oppure gestisci le impostazioni 3D Impostazioni Programma Tu basta che vai a prendere Direttamente FIFA Quindi andiamo a prendere FIFA Facciamo sfoglie Basta che vai su impostazioni 3D Desktop Vado a prendere FIFA Lo inserisco qua Impostazioni Programma Lo inserisci qua sopra Scendi fino a giù Fino a trovare Questa sincronizzazione verticale Metti disattivato Tecnologia monitor Se la tieni Metti compatibilità G-Sync E l'ultima invece La più elevata Disponibile E fai applica Applica più volte Basta Se non dovessi bastare Puoi semplicemente andare Su tasto destro Su start E vai su gestione Dispositivi Scade video Vai a prendere La tua scheda grafica A giorno a driver Cerca driver nel computer Scegli da un link Di driver disponibile Prendi l'ultimo driver Lasciato Ovviamente questo Del 5 di settembre Vai avanti E installi Il driver Per la tua scheda grafica Se non dovesse bastare Per FIFO Possiamo andare direttamente Tasto destro sopra Mostra attribazioni Proprietà Compatibilità Disabilita Ottimizzazione di schermo intero Eseguiamo sempre Questo programma Come amministratore E fai applica E fai ok Tu puoi avviarlo Sempre come amministratore Il gioco Oppure direttamente Sul suo launcher Quindi su Electronic Arts O Steam Se non dovesse bastare Possiamo andare a scrivere Esegui Scrivi qua sopra Percento Updata Percento Entriamo nella cartella Di Updata Updata Local Se qui dentro Trovi la cartella Di Electronic Arts Oppure FIFA 25 Cancella Quelle cartelle Non succederà niente Ripristina solamente Delle impostazioni Devi riaccedere Devi riaccedere Con le tue cretenziali Quindi fare il login Di nuovo Su EA O Steam O Come ti dice Tanto ripristina solamente Le impostazioni Quindi devi fare Il login Tutto qua Metti di nuovo La tua email La tua password Accedi al tuo account E provi ad avviare FIFA In un launcher Di EA O Epic Games O Steam Quindi Per altri problemi Ancora C'è una playlist Con più di 15 video Su come risolvere I problemi Su FIFA 25 Abbiamo anche Quelli di FIFA 23 FIFA 24 Quindi Grazie a tutti Per questa visione Se hai problemi Commenta sotto al video E noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo Tutorial Ciao